Amichi di Un Siciliano in Campania, come va? Ragazzi ho una notizia bomba da darvi, ve la comunico qui mentre sono a Porto con questo bellissimo mare, con questa bellissima giornata e finalmente online, rullo di tamburi, e finalmente online il mio canale ufficiale di Youtube, Un Siciliano in Campania questo canale porterà un sacco di contenuti, porterà un sacco di video all'interno del canale, tutte cose inedite e naturalmente con la partnership di Viral di Italia, quindi iscrivetevi al canale Un Siciliano in Campania e cliccate sulla campanella per rimanere sempre sintonizzati sui nuovi contenuti ragazzi finalmente ci siamo, siamo arrivati all'epoca del siciliano in campania con il suo canale ufficiale su Youtube quindi siateci, iscrivetevi in tanti e cliccate qui mi raccomando e iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi perché ne vedremo delle belle, ciao! A presto! A presto! A presto! A presto!